Come ti sei avvicinato al mondo del ciclismo? Mi sono avvicinato in un modo un po' scherzoso perché avevo problemi di peso quando ero bambino quindi ho cominciato parlando con una dietologa e mi ha detto che era uno sport che poteva aiutarmi a calare quindi ho iniziato per gioco diciamo perché avevo problemi di peso è diventata una passione e insomma sono qua Per chi non ti conosce che tipo di corridore sei? Ma sono un corridore completo quindi un corridore che si presta alla squadra senza problemi ha tanto da dimostrare quindi sarò a disposizione della squadra e cercherò di aiutare i capitani Te hai ottenuto due vittorie l'anno scorso, qual è quella a cui sei più legato? La due giorni marchigiana è stata una bella vittoria perché è stata la vittoria con i corridori di più di spessore quindi me la sono guadagnata, sono andato in fuga, ho ottenuto duro quindi è stata una delle vittorie più belle però di qua si azzerra tutto quindi pensiamo di ripartire da zero e quello che è stato fatto è stato fatto è stata una bella soddisfazione ma ricominciamo da zero Prima di pensare a futuro però c'è il rammarico magari di qualche corsa in cui dici quel giorno potevo vincere? Ma il rammarico sì, a volte capitava purtroppo che mi trovavo in inferiorità numerica quando c'era una Zalf al completo, i miei compagni mi hanno sempre sopportato l'anno scorso ma stai trovandoti in 3-4 contro 8-9 di una Zalf che comunque era superiore insomma rammarico c'è di qualche corsa ma credo comunque di aver sempre dimostrato di essermi impegnato al massimo per raggiungere il miglior risultato possibile Cosa ti spaventa maggiormente nel passaggio al professionismo? Ma mi spaventa un po' il mondo, un po' le corse, un po' come sarà se sarò pronto, la paura più grande è magari di non riuscire ad arrivare in condizione però stiamo lavorando bene con Cucinota quindi credo che non ci saranno problemi insomma il mio obiettivo è risultare utile alla squadra Per un corridore reggiano come te passare in una squadra fortemente legata con la regione è una bella emozione Sì, infatti la soddisfazione diventa doppia quando riesci a passare con il team di casa e sono stato fortunato perché comunque cominciavo a essere già nel range dei più vecchi nel panorama dilettantistico quindi cominciavo a perdere un po' le speranze però mi sono sempre impegnato al massimo, ho cercato di dare serietà, impegno di mostrare che comunque sono un corridore corretto e la famiglia Reverb ha voluto darmi una fiducia la fiducia quindi sono contentissimo e spero di ripagarli per questa fiducia Hai mai avuto veramente paura di non passare e che il tuo sogno non si realizzasse? Sì, proprio quest'anno nel 2015 è capitato che diversi procuratori io non avendo il procuratore però qualcuno mi avvicinava perché mi diceva senza procuratore non riesci a passare, è difficile e tutti quelli che contattavo magari mi si avvicinavano mi dicevano sai comincia a diventare vecchio, non hai vinto molto e allora cominciavo un po' a perdere la speranza però ho detto insomma io cominciavo a pensare a diventare un po' un vecchio dei direttanti che aiutava la mia società, la Bottoli, a crescere i giovani e cominciavo a perdere speranze dopo ho incontrato Bruno, mi ha detto vedo che sei sempre lì, che ti impegni, ti piazi sempre non hai vinto poco ma comunque dimostri di essere sempre nei primi dieci proviamo e insomma è andato tutto bene Che obiettivo ti sei posto per il tuo primo anno tra i professionisti? L'obiettivo è ripagare la fiducia quindi lavorare, quando mi diranno di sopportare Zardini, Colbrelli, Ruffoni insomma i capitani della squadra spero di essere al top per poterli sopportare quindi non pretendo vittorie, non pretendo solo di guadagnarmi la fiducia di guadagnarmi il posto e qui essere utile alla squadra quindi questo è il mio obiettivo più grande C'è una corsa in cui vuoi fare bene quest'anno e una magari che sogni un giorno di far bene? Ma il mio sogno più grande sarebbe riuscire a fare Sanremo e il Giro proprio perché sono le due corse italiane per eccellenza naturalmente il percorso è lungo sono il primo anno ho tre professionisti quindi non sarà facile però insomma chissà proprio perché magari mi ritaglio la fiducia magari mi porteranno proprio per sopportare un Colbrelli che la Milano-Sanremo può fare molto bene e naturalmente in un futuro se tutto andrà bene magari avrò le qualità naturalmente la Milano-Sanremo dicono che per le mie caratteristiche sia un'ottima corsa C'è un corridore al quale ti ispiri? Ma sì, tutti i più grandi corridori da Contadora, Anibali, Aro sono tutti corridori loro sono scalatori puri però vedi come lavorano come si dedicano al ciclismo come sono dentro questo sport da tanti anni comunque sono già professionisti da tanto e vedi come lavorano e poi io credo che un corridore come Sagan abbia una classe immensa però purtroppo la classe non puoi migliorare puoi solo cercare di averne un quarto di quello che è lui che ne ha veramente tanta Ti dovresti descrivere con un pregio o con un difetto? Beh, come difetto magari sono uno che si abbatte un po' quando le cose vanno male nel senso che deludere gli altri è una cosa che mi fa dispiacere molto perché non voglio dopo magari come pregio ho che mi dedico molto alla squadra cioè senza problemi se mi dicono devi tirare 200 km tiro senza problemi cioè se un giorno avrò la gamba magari toccherà a me fare il finale per dire ma senza problemi se devo lavorare lavoro grazie a tutti